Ciao a tutti ragazzi, è il 30 di dicembre e ovviamente parliamo di calciomercato perché in questo periodo qua le notizie più interessanti sono inerenti al calciomercato, anche se mi aspetto qualche altra notizia inerente al Covid dato che ieri sera di Vinter è risultato positivo a un tampone a cui è stato sottoposto dalla Juventus e ora che torneranno altri giocatori alla Continassa in questi giorni per iniziare a preparare la partita con il Napoli, vedremo se durante le feste, le vacanze, le cene, i pranzi e tutti questi momenti trascorsi insieme ad altre persone ci sarà qualche contagio anche nella Juventus perché questa è la cosa secondo me più interessante, ne parliamo all'interno del video. Prima di tutto vi invito a lasciare un mi piace a questo video che potrebbe essere uno degli ultimi del 2021 e come sempre lo sponsor del canale è OneFootball, su cui ho letto tra l'altro questa notizia, che vorrebbe Alvaro Morata lontano dalla Juventus per la seconda parte di stagione, potrebbe andare al Barcellona, leggetevi la notizia su OneFootball insieme a tante altre notizie tra cui quella dei tamponi che verranno sottoposti ai giocatori di ritorno dalle vacanze, scaricatelo, il link per scaricarlo è qui sotto in iscrizione e iniziamo a parlarne. Perché dicevo di essere preoccupato? Perché il rischio di rinvio di Juventus-Napoli ad oggi in questo momento in cui vi sto parlando non esiste, perché lo ribadisco ancora una volta, se il Napoli ha tre giocatori positivi ma sono stati tutti isolati e quindi non sono entrati in contatto con il gruppo squadra, il rischio focolaio non può avvenire perché questi giocatori sono stati positivizzati in momenti in cui non erano a contatto con gli altri, tra l'altro insegna Fabian Ruiz, sono già guariti dal Covid e quindi saranno disponibili. L'unico è Lozano che in Messico, è proprio all'interno di un altro continente, addirittura non vedo il motivo per cui possa essere un pericolo per i giocatori del Napoli. Diverso è se tra Juventus e Napoli ci saranno dei giri di controllo, dei tamponi di fine anno, di rientro dalle vacanze e se lì ci saranno dei positivi che addirittura potrebbero essere entrati in contatto con altri giocatori. Quindi se inizieranno lì fuori 4, 5, 6, 7, 8 giocatori per parte, lì la gara potrebbe essere effettivamente a rischio di rinvio ma questo vale per tutte le gare di Serie A. Se ci sono dei giocatori, tanti giocatori all'interno del gruppo squadra che risulteranno positivi, l'ASL dell'appartenenza della squadra potrebbe andare effettivamente a rinviare la partita, a non far disputare la partita, a non far partire la squadra. Ma in caso di uno o due positivi, quante volte abbiamo visto le squadre partire e andare a giocare con uno o due positivi che vengono prontamente isolati e il resto della squadra messo in bolla? Una marea di volte. Ormai dovremmo avere la nausea di sentire questa cosa. Se poi continuiamo a dire che in realtà partite a rischio con uno o due positivi, allora io qua alzo le mani e ci ho fatto un video anche l'altro giorno per spiegare un po' quello che è. Parliamo di Barcellona. Questo è un video che parlerà di Barcellona. Parto da una notizia che ha dato Romeo Agresti questa mattina, cioè non esisterebbe questa fantomatica clausola legata a Matthijs De Ligt al Barcellona. C'è questa clausola, no? Recessoria che si attiverà di De Ligt quest'estate. 120, 130, 140, 150 milioni, non lo so. Comunque dovrebbe essere circa così, cioè altissima, veramente altissima per un difensore centrale. Chi vuole De Ligt bussa la porta da Juventus e butta sul tavolo questi soldi qua, ok? Non c'è una clausola che dice tutti. Quella ma il Barcellona 15 euro e due gole ad ora, no? Il Barcellona dovrà ricorrere alla stessa clausola recessoria o parlare con la Juventus per cercare di abbassare le pretese economiche perché comunque stiamo parlando di una cifra altissima. Quindi non c'è, non ci sarebbe nessuna clausola pro Barcellona nel contratto di Matthijs De Ligt da partire da quest'estate. Quindi possiamo stare, non dico tranquilli perché io sono convinto che De Ligt sarà uno dei nomi caldi, il calciomercato in uscita da Juventus quest'estate, mi dispiace un sacco ma anche di questo abbiamo già parlato, sottolineiamo che il Barcellona è sulla stessa linea di tutti gli altri club. E invece dalla Spagna questa mattina abbiamo iniziato a leggere di un potenziale interessamento sempre il Barcellona per Alvaro Morata già nel mercato invernale, già in questi giorni qua. Parto dicendovi che secondo me non andrà via Morata a gennaio, ok? Quindi questo è il mio pensiero, la mia posizione, la mia opinione. Però non mi stupirei del contrario. Non mi stupirei del contrario perché ve l'ho già detto più di una volta, ogni tanto in Alvaro Morata mi pare di rivedere i movimenti del corpo che aveva lo stesso Cristiano Ronaldo l'anno scorso. Ci sono dei momenti della partita in cui mi rendo veramente conto che Alvaro è scoglionato. Poi durante la partita non fa mai mancare la sua voglia, il suo contributo, si sbatte, si sacrifica perché questo fa parte di Alvaro Morata e a me, devo dire la verità, sinceramente un attaccante a questo atteggiamento piace sempre molto. Però ci sono tanti momenti in cui non lo vedo più sereno, non lo vedo più tranquillo, lo vedo diverso. Lo vedo diverso da come è sempre stato Alvaro Morata con la maglia della Juventus. Mi dispiacerebbe cedere Alvaro Morata a gennaio. So per certo che, cioè per certo, è sempre mia opinione, che la Juventus quest'estate non lo riscatterà per 30, 35, 40 milioni quelli che saranno e abbiamo già pagato 20 milioni di prestito all'Atletico Madrid. Ora non so se andando via a gennaio non dovremo dare gli ulteriori 5 e che quindi la Juventus abbia già deciso non riscatto Morata, lo vuole il Barcellona, risparmi 5 milioni nella seconda parte di ingaggio di Alvaro Morata. Perché dovrebbe essere così, io ricordo i tempi in cui diamo Higuain al Milan, il costo di ammortamento anno di Higuain era di 18 milioni di euro, quindi il prestito al Milan era di 18 milioni all'anno, il Milan lo tiene 6 mesi, gli altri 6 mesi lo giriamo in prestito al Chelsea e quei 9 milioni ce li dà il Chelsea, non il Milan. Perché il Milan si era reso conto che Higuain faceva anche lo stesso e sono andati su Pionte che quindi si sono tenuti Higuain solo per 6 mesi e ha risparmiato 9 milioni. Io immagino che sia un po' lo stesso discorso che succederà tra Juventus e Atletico e per questo che vi dico non ne sarei stupito perché è una cosa che abbiamo già visto nel recentissimo passato, soprattutto quando poi i club che hanno i calciatori in prestito, Juventus e Milan, decidono di andare su un'altra attaccante a gennaio andando ad investire una cifra magari non subito ma con la certezza di riscattarlo. Tradotto, il Milan all'epoca prese Piontec, che fece anche 6 mesi fatti veramente bene perché quell'anno Piontec fece il disastro in Serie A e noi potremmo andare a prendere Scamacca in prestito con obbligo di riscatto e cioè iniziare 6 mesi prima quell'operazione che andremmo poi a svolgere quest'estate. Ieri qualcuno mi continuava a dire però io Luca piuttosto che spendere 40 milioni per Scamacca ne spenderei 80 per Vlaovic. Eh, eh beh, grazie, non l'avrei mai detto. Tutti ragazzi, tutti. Cioè non mi stancherò mai di ribadirlo. Se devo andare a prendere un giocatore, l'unico giocatore che davvero vado a prendere in attacco a occhi chiusi in questo momento è Vlaovic. L'unico. Perché vabbè, Holland e Mbappé non li considero neanche perché sono veramente fuori dalla portata della Juve. Lo stesso Vlaovic è fuori dalla portata della Juve ma con un miracolo, un incastro, il giocatore che spinge queste cose qua gli posso dare l'1% di probabilità. Gli altri è 0. 0,1 perché 0 magari no. Però è ovvio che se ti rendi conto che Vlaovic è inarrivabile per costo, perché la Fiorentina vuole tutto subito, perché il giocatore vuole 8 milioni di euro all'anno, 10, non lo so, quelli che sono, e ti rendi conto che non lo puoi prendere, allora vai su un altro profilo che ritiene interessante e che possa essere il tuo futuro, che in questo caso pare essere Gianluca Scamacca. Io ve lo dico, più penso a Scamacca e più credo che alla fine sarà lui, perché ha tutte le carte in regola per essere l'acquista da Eventus, se vi non ho parlato nel video di ieri, ma sempre nel video di ieri vi dicevo che per far arrivare Scamacca a gennaio qualcuno doveva uscire, e avevo immaginato potesse essere Kuluzeski, e invece no, perché per quanto io sia dell'idea che comunque non andrà via Morata a gennaio, ecco che tutto andrebbe a collegarsi in maniera perfetta. La Juventus cede Morata a gennaio, risparmia 5 milioni all'Atletico Madrid e la parte che deve a Morata di ingaggio. La Juventus prende in prestito con obbligo di riscatto Scamacca, ok? I soldi dello stipendio di Morata li rimette sullo stipendio di Scamacca e ci risparmia pure qualcosa. I soldi, i 5 milioni di prestito che dovevamo all'Atletico Madrid li diamo al Sassuolo per l'inizio del prestito di Scamacca e i 35 milioni quest'estate che dovevamo spendere per riscattare Alvaro Morata, invece li diamo al Sassuolo, sono 35 perfetti e i 5 del prestito, fa 40 e abbiamo preso Scamacca. Quindi lo stesso prezzo che rimane ad oggi per comprare Morata compra un attaccante che ha 7 anni di meno, ok? Che ha una struttura fisica diversa da Alvaro Morata e che sembra essere l'attaccante che serve alla Juventus. Il problema qual è in tutto ciò? Oltre al fatto di non dover cedere Kulusevski e quindi mantenere il rosa un esterno nel quale poi dovreste andare sul mercato ad acquistare un suo sostituto. E c'è un problema in tutto ciò. Il problema è che un conto è giocare la Champions League con Alvaro Morata titolare che è una competizione che conosce e dove con la Juve bene o male ha sempre fatto le sue porche figure, sempre ha avuto dei buoni impatti Alvaro Morata con la Champions League. Conto è presentarsi in Champions League con Scamacca titolare che la Champions League non l'ha mai giocata. è quello che vi dicevo ieri, è un discorso di livelli. Io sono dell'idea che Scamacca sul lungo possa diventare un gran bel giocatore e mi sembra anche che stia iniziando a far vedere qualcosa di interessante, ma stiamo comunque parlando di un ragazzo, 22-23 anni, che la Champions non l'ha mai giocata e che verrebbe buttato nella mischia a gennaio dicendogli bene tu ora sei il nuovo centravanti titolare della Juventus e tra l'altro diamo via anche quello che è stato il centravanti titolare fino adesso, proprio per non farti preoccupare e farti capire che ci sei solo te. Tranquillo eh però, per il resto non è un problema, ma ci sei solo te. Ah, dobbiamo rimontare dei punti a Napoli, Atalanta, Milan e Inter perché se no non entriamo in Champions League ed è un disastro, però per il resto tranquillo eh, non è un problema. E sono sempre di quella. Quando vai a acquistare dei giocatori giovani, calma, calma, se no li bruci, se inizi a dare troppe responsabilità, li bruci, li distruggi psicologicamente. E mi sembra esattamente il ragionamento opposto a quello che si sta facendo con Fagioli. Ne dico uno che è andato in prestito, Ranocchia, possiamo metterci anche Ranocchia. Non sono pronti ad oggi per essere titolari della Juve. Lì do in prestito un anno e poi valutiamo. È vero che Fagioli e Ranocchia non avevano ancora fatto nessuna annata di Serie A e Scamacca. Invece l'anno scorso al Genoa sì e questi sei mesi col Sassuolo sì e quindi non è un discorso di gioventù ma di esperienza. È questo il ragionamento di Allegri. Però mi viene da dire se sei mesi fa Scamacca non era pronto per essere titolare nemmeno nel Sassuolo. Infatti gli ultimi giorni in mercato il Sassuolo ha cercato addirittura di cederlo, poi è rimasto e ha ceduto Ciccio Caputo. Com'è possibile che dopo sei mesi non solo sia diventato titolare del Sassuolo ma è pronto per essere titolare della Juventus e titolare Juventus in Champions League perché diamo pure via Morata. Ora non sono qua a dire che Morata è il mio attaccante preferito nella storia. Oddio piangerei l'addio di Morata. No, non è questo il punto. Ma è sicuramente un attaccante migliore per concludere la stagione in questo momento rispetto a Scamacca. Poi probabilmente Scamacca andrebbe a dare qualcosa di più all'eventus caratteristiche che Morata per forza di cose non può avere. Però il ragionamento che faccio io è, devo migliorare l'attacco e quindi compro Scamacca. Se compro Scamacca non è che do via Morata perché alla fine non è che sto migliorando l'attacco, sto semplicemente facendo uscire Morata e facendo entrare Scamacca. Quindi mi tolgo un giocatore che comunque fino adesso è uno dei migliori realizzatori della Juventus per quanto la cifra sia il ribazzo dopo Di Bale, quello che ha fatto più gol. Capisco se magari prendo... Guarda, in realtà non lo capisco perché anche prendere Scamacca e tenere Morata per me in questo momento non è quello che serve alla Juve, ma ha maggior ragione se prendo Scamacca e poi cedo anche Morata. Questa non mi sembra... Poi ribadisco sotto il profilo dell'incastro è perfetto perché la Juventus risparmia dei soldi, quei soldi che utilizzerebbe per riscattare Morata li rimette su uno di sette anni più giovane con delle altre caratteristiche che sembrano più idonee in questo momento. Quindi lì ci sta tutto fila, risparmio anche l'accessione di Kulusevski dove acquistare in esterno va benissimo. Il punto è che non miglioriamo nell'immediato. Ci togliamo qualcosa per raggiungere qualcos'altro di diverso. Non mi sembra la scelta giusta però questa è soltanto la mia opinione e voglio sapere anche la vostra. Tra l'altro hanno esagerato dalla Spagna, hanno detto Xavi ha già chiamato Morata per telefono, si sono già parlati, già adatta la disponibilità e quindi arriva. Madonna, tutto in due secondi della serie ciao Alvaro, ciao Xavi, buon Natale, grazie anche a te, prego prego vieni a giocare il Barcellona? Ora io so che il Barcellona dopo Aguero il problema che ha avuto il ritiro sarà costretto ad andare sul mercato a prendere un attaccante. Ha già preso Fernand Torres tra l'altro. Fare Fernand Torres salva la Morata nella stessa sessione di mercato a gennaio una squadra in crisi senza soldi non sarebbe mica male però mi sembra tutto buttato lì. Ripeto, secondo me non succederà anche perché la Juventus andrebbe a indebolirsi molto cedendo un attaccante e mettendo dentro un attaccante. Un punto se devi migliorare ne metto dentro un altro che mi dà qualcosa in più ma se metto qualcuno che mi dà qualcosa in più ma ne tolgo un altro che mi dava quell'altra e quel caso in più. Punta capo lettera maiuscola, quindi non lo so mi sembra molto strano ma non sarei sorpreso del contrario proprio perché dietro c'è un ragionamento che avrebbe molto senso.